Dopo Germania 2006, Burkina 2007 Dobbiamo far vincere i bambini del paese più povero del mondo Dobbiamo affrontare fame, epidemie, carestie Serve una grande squadra Tutti i ruoli sono importanti Per costruire ospedali, pozzi, scuole Per portare medicine e macchinari Per raccogliere contributi e donazioni Ora dobbiamo tutti dare il massimo Grazie a tutti! Grazie a tutti!